Un esplicito divieto di infliggere punizioni corporali ai bambini deve essere incluso nella legislazione dei paesi europei. Lo sostiene il Consiglio d'Europa che ha condannato la Francia per la violazione dell'articolo 17 della Carta Europea dei Diritti Sociali che prevede di proteggere i bambini e gli adolescenti contro la negligenza, la violenza e lo sfruttamento. Non sono previste sanzioni ma la decisione dell'organo europeo potrebbe portare ad una condanna da parte della Corte Europea per i diritti dell'uomo. Come era prevedibile, la pronuncia ha riaperto il dibattito in tutta la Francia. Io non sono certo rimasta traumatizzata, dice ridendo una donna. Secondo me ci stanno le sculacciate, se se ne dessero di più sarebbe meglio. Ad affrontare più seriamente il tema però si trovano anche pareri diversi. Con i piccoli si deve parlare, così possono imparare le cose. Non serve la violenza, anzi questa finisce per spingerli a ripetere quello che noi facciamo nei loro confronti. Dei 47 stati membri del Consiglio d'Europa, solo 22 hanno il divieto delle punizioni corporali nella propria legislazione. Tra questi non c'è l'Italia che a sua volta potrebbe subire una procedura simile a quella riservata alla Francia se non rimediasse alla lacuna. Grazie! Grazie!